Il tuo marito è in ospedale perché tu hai tentato di evirarlo. Io sono la vittima avvocato, io sono stata tradita e lui è quanto di danno? Lui quanto? Quanto? 180 punti di sutura, Cecilia, sul cazzo! No! Avvocato! Che dimenticare? Scusa! Signor sindaco, colleghi! Chi hai? Dice che potrebbe essere legato anche ad un trauma piccolino. Ma che cazzo fai? Forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose? Ma qua è l'amico! No la gonna, no! Dicono un trenzo all'ombra, ma mi sento una mignotta. Io ho capito solo mignotta. Ma ci raccomando di che ti capisci la botta, è Cesenasta. Io ho capito Cesenasta, che è Cesenasta? E vuoi tu prendere il qui presente Giovanni e Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie? E ripassiamo. Eccoci qua, e suona. E cosa facciamo? Mi hanno messo una placca nel ginocchio sinistro. Provi a passare solo con quella gamba. Provi con l'altra ora. Ganniamo il capitano, ganniamo l'ortopedico, smontate il ginocchio come a Big G. Ma non mi venire a dire che hai ritrovato un'amica con la quale farmi bene, perché se no io impazzisco, non ci credo. Ce lo taglio. Avete mai visto un aereo dirottato da un ginocchio? Avete mai visto uno che arriva e minaccia? Mani in alto, sono armato, ho dell'acciario nel ginocchio. Ma che ragionamento è? Finito? No!